allora ragazzi siamo di nuovo tornati con alawake 2 abbiamo appena finito il primo capitolo in cui abbiamo portato l'agente nightingale morto con il bumbu con petto non c'aveva più il cuore eccetera all'obitorio lo abbiamo abbiamo fatto un autopsia abbiamo aperto un caso gli indizi eccetera che si fa nel mind place nella stanza mentale e abbiamo collegato alcuni punti abbiamo scoperto qualcosa sulla setta che è una setta perché noi lo sapevamo perché l'abbiamo vista ma la gente della fbi no quindi sappiamo che ha una setta e che gli omicidi sono con un modo superandi simile chiaro sempre lo stesso in realtà è solo che abbiamo trovato un manoscritto nel petto di nightingale che ci ha ovviamente spoilerato il futuro come come succede in alawake il primo e lui si è svegliato più o meno perché comunque era posseduto da una forza oscura e ha cominciato a picchiare tutti e alla fine noi abbiamo preso la nostra pistola e gli abbiamo sparato l'abbiamo ucciso o no è semplicemente scomparso e così si è concluso il primo capitolo quindi ripartiamo da lì esatto a questo punto credo che rose abbia accesso al manoscritto abbia trovato delle pagine del manoscritto perché se no come faccia a sapere che questa era saga e che la figlia sarebbe annegata poi vai capicò beh immagino che ci siano abituati da queste parti immagino che ci siano Beh, ho detto che le animazioni facciali non erano, erano molto buone su questo gioco, soprattutto, soprattutto quelle di Rose, ma quelle del nostro partner, boh, magari lui parla proprio così, senza muovere un musco. Vediamo, ah ok, queste sono le pagine del manoscritto, la radio, questa mi è nuova, ah ok, abbiamo sbloccato giustamente la musica del primo capitolo, vorrei un attimo tornare, esatto, tabellone del caso, cosa abbiamo? Nightingale ci ha attaccati. No. Abbiamo qualche indizio. Quello che c'era scritto nel manoscritto. Esatto. Poi abbiamo la setta dell'albero. Ma l'avevo già messe sul... Che sia importante azzeccarli subito. Non ho capito però perché io li avevo aperti sti casi. E' già collegati. Ok, adesso abbiamo tutto collegato. Vediamo se... C'è qualcosa? No, qui era chiuso. Dove è ancora? All'altro lato. Aspetta, cos'è? Ah, hanno ucciso... Ha ucciso un poliziotto. E anche qui... Sono a straggio. Si apre... Mi sa che devo... Sì. Devo parlare con lui. Torniamo a controlli. Sì. Io ho come l'impressione che questi due siano coinvolti. Ho questa impressione. Sì. Un poliziotto. Sarà l'ufficio dello sceriffo? Non c'è più. Sono un turistico. E sembra che mi sono perduto nella città. Ho solo avuto un guide di tour. Sì. Oh, no. Un poliziotto. Sì. Ehm. Oh, no. C'è qualcuno chiamato per un tour guide. Oh, wow. Coskola Brothers Adventure Tour. Oh, forse Chuck Norris invece no. munizioni vado vabbè si apri tutte le porte chi è? chi ha parlato? vediamo se c'è qualcuno in cella allora uno di voi ruba la carta igienica non si fa qui non si tollerano furti è un ufficio dello ceriffo per la miseria che razza di pazzoide con te rotoli di carta igienica forse è troppo tempo da perdere un po' ta risposta entusiasmante qui è chiuso non si sa perché vediamo un po' le celle allora e forse staresti più al sicuro lì dentro tu che dici quello non è depresso lui guarda la luce fuori vabbè c'è niente altro non conosco nessuno quindi ce ne possiamo andare no Nightingale e il colt è pericoloso abbiamo bisogno di preparare in caso ci escalate più di più di più che già si chiamate in KC una buona luce Anderson agent KC qui sì abbiamo bisogno Il caso di Bright Falls, il caso di chi ti può spare, asapto. Pensiamo che ci vediamo a la città di Nightingale? Le pagine non sono ancora erano. Non possiamo pensare che la persona scrivendo queste pagine non è giocato. Sto a dire, ma è il nostro meglio. Questo è il simbolo del coltto. Non si spiega in le scuole, sono? Chi? Dove va a parcheggiare L'auto può essere usata per viaggiare tra i vari luoghi L'auto può essere usata, Anderson L'auto può essere usata perché Nightingale è qui 13 anni fa L'autorizzazione di un scrittore Alan Wake Tami ha lo raccontato L'autorizzazione di scrivere un libro sui scopriere L'autorizzazione di scopriere L'autorizzazione di scopriere L'autorizzazione di scopriere Alex Casey Sì, ho sentito le scopriere in l'autorizzazione Cold Case Casey Murder Case Casey Scusate Ha ha Il stesso nome, un lavoro simile È la prima cosa che qualcuno pensi Mi ha scopriato, ma è tutto Poi, 10 anni fa Ho iniziato a trovare strani lettere In la mail Fragmenti di prose Descrivendo murdere You've heard the stories about what happened in New York Some of it at least Bodies started to pile up It was a murder cult Turns out the fragments sent to me Were from the crime books of Alan Wake The cult was copycatting the murders from the books In their heads they were performing a ritual To bring Wake back Their imagined profit After that case I started looking into Wake's disappearance On the side And you thought this case Might be connected to him His name does keep popping up I just wanted you to have all the facts Next time, give them to me Before we find ourselves In the middle of a horror story The page says Nightingale is in something called an overlap I need to figure out exactly what that means I'm happy I'm not in charge of this mess Thanks Vediamo se c'è qualcosa sulla mappa Ah, a quanto pare dobbiamo andare di qua The writer of these pages knows what will happen Because they're behind this Or because they can see what's coming Impossible things are happening here A world operating on different rules I need to understand this strange logic To see the clues To solve the case I've been thinking more about the cult of the tree What sort of cult refers to themselves as a cult In my experience They don't It's an excellent question We're not seeing the full picture yet Hey, hello there How are you folks doing? Those restricting areas Hello Saga Anderson Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela Fantastic to meet you And yes Steven here hired me to show him through the woods He's in town on an important business Quello della pubblicità Il picchiatore di orsi Beh, non dovrei raccontare particolari a una guida Do you know anything that could help us? People tend to tell me things The Koskela Brothers is a kind of a household name around here Speaking of, if you're looking for some fun Stop by Watery Just down the road from Bright Falls There's our Coffee World amusement park There's Sauna Sauna de Vista And we offer a variety of guided tours Hunting, fishing, hiking Whatever strikes your fancy You know, we're probably got it What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am The Federal Bureau of Control checks volcanic activity And air toxicity levels No need to worry, though It's mostly for research purposes That's one gorgeous sweater saga Looks Nordic I bet a family member made it My mother made this sweater for me How do you know? I knew it My mom used to knit those sweaters for me and my brother Watery My hometown was founded by Finnish immigrants So between your name and the sweater I figured your family might be from Finland too Suomi, Finland Ulla, karriya lampir Close My mom's family is from Sweden originally Eh, quasi I don't know much about them beyond that The sweater is just something to remember her by Steven, we're investigating a murder that occurred nearby What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid But I don't know anything about a murder Operations here are run by a different department I'm just here to make some repairs The wiring on this thing frays every couple months Yep, that's the raccoons They grow real big here with teeth like you wouldn't believe Can't not run through a garbage can't Well, I need to get back to him Let's get to the murder site Casey A lot of things about this case keep bothering me But one thing feels really off Raker's disappearance I don't get the feeling Nightingale was responsible Hmm, he was about to give you more of those pages Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know Not the kind of disappearance we normally saw Our crime scene's drowning I never mind it, the rain Feels like Oh No sign of Nightingale But the page did place him at Cauldron Lake In an overlap So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us Vediamo No, è che c'era l'indicatore C'era solo quello Qui Pronto Nightingale Allora Allora Monsters Overlaps Rituals What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective Acting out their sick fantasy They may be trying to get you involved Forcing you into their twisted world But with the dead men coming alive The word ritual starts to have more weight behind it We need to look around Learn what this ritual is After we find Nightingale What then? I've never arrested a monster I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson You know what I mean? Monster monsters Light worked against him at the morgue That might be the only way to stop him from hurting anyone else Sì Eh, non è un collezionabile da spaccare Ehi C'è un'altra pioggia di lunchbox Sto prendo, ci sono i frammenti, sono buoni Ricorda, è solo una brutta giornata Non una brutta vita Ma se stai avendo una bella giornata Fai finta che non abberete niente Ok Stiamo salendo sempre più su Sempre più su Presumo che questa sia la strada giusta Benissimo, no Quali sono i luoghi di interesse? Qui dentro Sono perso Le impronte, eccole Grazie a tutti Bastava seguire le impronte Io credo che sia proprio qui lui Spunta fuori, maledetto Spunta fuori, maledetto Lora Hai paura Ah ma questo l'avevano già visto Poliziotto che non ricambiava i sentimenti di una donna Che gli ha strappato il cuore Vabbè Potenziamento della dolce Potenziamento della dolce Ok Adesso Che abbiamo un altro obiettivo Quindi andare dal witch's hut Uscirà Nightingale da là Sicuro E invece no Per arrivare al witch's hut Dobbiamo tornare indietro E poi andare a sinistra Si passa anche di qua Ah come Eh esatto Ma dove Qui no Eccolo Presumo Allora Possibile Per lustra Ah Bella Salvataggio rapido Bevendo del caffè Finalmente Qualcuno che ci offre del caffè Che ci offre del caffè Faccio Progression Della immagine di la witch's hut Saga Trasera la witch's hut La scuola La scuola La scuola La seconda parte Recita Con la memoria Drei La scuola La scuola Scuola La scuola La scuola Trasera la scuola Io vedo un'altra volta di là Perché c'era il cartello col buco Era di qua no? Non posso dire di ricordarmelo proprio Benissimo Sì, cartello strega, sì Ora verrà fuori no? A parte che si è acceso anche il lampione E ma come faccio ad inserire il cuore? Era qua Poi dobbiamo inserire il cuore nell'albero Nella pessura Interpreta la pagina Scusate Dove stanno i manoscritti? Com'è che si aprono i manoscritti? Eccolo Allora Primo di carne morta in mano La sua definizione salute mentale era cambiata molto Da quando aveva messo bene in questa cittadina Ma non aveva altro scelto Saga si rivolse alla strega Strizzò gli occhi per leggere la prima parte delle parole rituali La linea sbavata sul cuore Recitò la seconda parte a memoria Le parole che aveva letto sulla pagina Ti ho portato il cuore strega Mostrami il terrore Saga Inserì il cuore nel buco del cartello Era quella la chiave L'albero era la soglia Quindi è giusto Televisione Radio No Profilazione Vediamo Nightingale Facciamo una profilazione Forse questo dovevamo fare E il dark place è dove si trova la wake Blockato Vediamo cosa abbiamo Sì Ho già avuto le risposte a queste La pagina di The Witch's Hut sembra descrivere E fin qui E' fin qui E' certo Non abbiamo il cuore E' fin qui Che capito? Perdonami. Penso sia sempre sui simboli questo, mentre quest'altro è sempre simbolo. Sì. E abbiamo finito. No? Ancora profilazione. Il cuore, oh esatto. Dov'è il cuore? L'opposito di alcuni spazi. Chi ha detto? Non è così. Non ho quello che ho bisogno per trovare Nightingale's heart. Deve avere più. Nightingale's heart? O dove è? Forse a quando... ... hanno giocato card in la General Store. Il cuore ha scopo il cuore. Voi fuori da mia casa. Ora ce l'abbiamo. Prima di tutto, le impori. Sempre la battuta pronta. Sempre. Allora, l'emporio è questo. Ma ha preso un colpo. La parte del cervo non me la ricordavo, ma questa scena l'abbiamo già vista, l'hanno mostrata. Con il tizio della setta. Posso uscire un attimo fuori, no? Vediamo. Scusa, una benda ti permette di curarti. Sì, ma non mi ha ferito, però vabbè. Non avevamo la vita piena prima, quindi vabbè. Cos'è? Sì, hanno aggiunto questa cosa alla Resident Evil. Controllare con Dea bendata alla cassa. Con l'inventario. La telecamera dietro la spalla, il modo di sparare, la torcia. È molto Resident Evil. È molto Resident Evil. E non ci trovo niente di male, eh. Bisogna copiare dai migliori. Bisogna prendere spunto. E ci sta. Ci sta. Saga si avvicinò lentamente verso la porta rotta. Con la pistola pronta e la torcia puntaria in avanti. Nightingale aveva detto che sarebbe stato lì. L'emporio di Coldwell Lake era coperto di vegetazione marcio. Saga pensò alla setta dell'albero, erano stati lì. Verso lì era stata rotta da un animale. Ci fu un forte rumore e noi osserviamo nella notte. Vabbè, quello che è successo. Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con furore. Quindi, forse su profilazione sempre? No? Perché dobbiamo essere almeno di qua? Abbiamo trovato... Questo? No? La psicologia? Poi... L'omicidio... Abbiamo le... Dove va inserita sta roba? Ah, parole sul cuore. E dov'è? Questa non l'avevamo messo. Non è tutto qui, ma... Va bene. Non è tutto qui, ma io riconosco questo. L'acqua... 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 Quale sarà... Se mai lo sapremo, per dire la verità. Allora, parla di... Allora, innanzitutto vediamo quali sono i simboli qua del fucile a pompa, dell'occhio, eccetera. Sono dei numeri, dei classici numeri, controllare con dea bendata la cassa. Innanzitutto dobbiamo trovare la cassa. Ok. Qui... Dea bendata potrebbe essere una sorta di... Cos'è? Andiamo. Ecco qua. Abbiamo l'otto Washington. A051317233945. Ricorda, giornacodice. Cosa abbiamo qui? Madame... Ah, lettura della mano e sfera di cristallo. Interpretazione dei sogni. 202, 555, 0137. Credo che sia il nome. Oppure... 05 no, 13 no, 17 no, 23 no. Ci restano 39 e 45. 139. A posto. Ah, ecco. Allora, slot rapido. 1. Slot rapido. 2. Esegui il rituale per aprire la sovrapposizione. Ok. 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 Sì, effettivamente. Non era qui. Non era qui. Che diavolo so? Non sono membri della setta. Sì. Ma stavo mirando al niente. Ah. Oh. ok quindi la torcia consuma uno slot non funziona come quella del primo che si ricarica tra l'altro si ricaricava la torcia C'è un po' di noi. No, no, no. Eh, non può rispondere se siamo nella sovrapposizione. Eh, non è la sovrapposizione. No, 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 no. Eh, sono gli UFO. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Non ricordo le loro forme cambiarono. Non bisogna trovare Nightingale. No, no. 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 E' tutto contorto. Bene! Oh! Oh! Ah! Facciamolo di... Oggi era niente. Più o meno. Dobbiamo tipo scappare. Eh... Merda! Le batterie! Le batterie! Non abbiamo più batterie, mo? Sì, vabbè, ho premuto tasti a caso. Eh... Non avevamo più le batterie per la torcia, però. Lo so che la storia non va così, cioè. Eh, presumo che ci siano delle scorte comunque in zona, o no? Tipo queste. Eh... Ok, ok. Ma qui non ha importanza a quanto pare dove vado. Dopo un po' lui arriva. Oh! Oh! Abbiamo preso tutto. Sì... No, 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 no. Sì, forse. Devo evitare di farmi... Ah, stavolta lo ammazziamo proprio? È definitiva la cosa? Forse. Cosa? Ah, ma c'è l'oscurità, vaffan... Veloce, quanto ci mette a ricarica? Due colpi! È finito. È la cicatrice, mi piace. Perché l'abbiamo presa, eh. È la cicatrice. Io sono in Coltrone Lake. Onde sei? Non ho non esco. In danger. Le dorsi. Danger. Grazie. è Alan Il è è è è è lago dal lago dal lago bello bello mi è piaciuto come capitolo molto più action rispetto al primo che era introduttivo eccetera ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete noi ci vediamo in un prossimo video ovviamente di ala wake sicuro ma anche di qualche altro gioco o di argomento io vi ringrazio per la visione e alla prossima